salve a tutti i miei cari zecchini e ben ritornati dal vostro ser piede zecchini in questo nuovo video di marvel snap allora non l'ho portato per una settimanetta però continuato a giocare perché il gioco è veramente molto bello sono arrivato al livello 79 quasi potete vedere cioè ha scalato tutti i livelli non so quanti ce ne non ho neanche capito se siano livelli queste cose però comunque sono tantissime le carte da sbloccare sono tantissime adesso riprendiamo la ricompensa giornaliera che sono hanno migliorare le carte alle carte sono molto belle se le migliori la prima volta escono dalla cornice infatti dice cornice infranta e esce la cornice vedete la testa la sua e anche la pistola se la migliori ulteriormente diventa 3d vedete ed è molto veramente molto belle sono vedete che adesso esce fuori ancora di più ne posso migliorare un'altra a più due quindi prendo 25 crediti è vero perché ogni ogni carta migliorata da roba quindi miglioriamo anche rocket raccoon qua cornice infranta adesso e vedete che usciranno le pistole ecco fatto esatto questo non aumenta il valore della carta in nessun modo neanche di potenza niente aumenta solo la grafica della carta che la trovo molto carina una carta misteriosa sbloccata vediamo white queen che dice pesca una copia della carta più costosa nella mano avversaria non male come carta anche questa il gioco basta leggere non è difficile però è molto tattico perché bisogna fare conteggi ci sono tre località e bisogna vincere su due su due di queste tre località adesso faremo una partita e andremo a vedere come funziona bene non ho vinto niente altro no volevo un'altra carta io vorrei trovare vorrei trovare wolverine e vedere un po com'è ok andiamo a farci una partita il mio mazzo è questo il 2 sì però voglio vedere il mazzo il 2 dove com'è che si fa qua a vedere il mazzo qua la mia collezione io uso questo mazzo dove c'è antman quicksilver sentinel snooker no shuker non riesco a leggere shuker iron heart wall questo wolfsbane che non conosco in realtà mister fantastic iron man blu marvel che è molto forte gamora on slaug non so leggerlo correggetemi nei commenti che raddoppia le altre abilità effetto continuo attiva in questo campo quindi non è male e ovviamente uc spacca a manetta allora se vedete c'è scritto il 6 in blu e quello è il turno dove lo si può giocare e il 12 è la forza che ha infatti le carte da 1 si possono giocare al primo livello subito dal primo livello le carte da 2 al secondo livello e così via arrivati al terzo livello se si ha abbastanza energia si possono giocare anche due carte consecutive da 1 o una a 2 una da 1 comunque giocando si vede molto meglio cioè si capisce meglio qui abbiamo tutte le mie carte poi dovrò studiarle tutte perché alcuni hanno delle delle potenzialità tipo apocalisse molto forte quando scarti questa carta dalla tua mano puoi rimetterla al suo posto con 4 di forza però potendola giocare al sesto livello bisognerebbe giocare quando ci sono sette livelli perché a volte aggiunge un livello odino anche molto forte attiva le abilità la scoperta delle carte in possesso in questo campo quindi più carte si hanno in un campo è meglio e lui le attiva tutte ant man è meglio giocarlo alla quarta mano perché ti dice più 3 di forza se possiedi altre tre carte in questo campo quindi ant man è sempre meglio giocarlo alla quarta mano comunque andiamo a fare una partita e vediamo c'era qualcosa e non ho letto io non ho capito ancora però se questi sono giocatori veri e sono bot comunque io di solito raddoppio sempre snappo sempre allora bisogna leggere quello che viene scritto nei campi allora qui dice dopo il quinto turno più due di forza tutte le carte presenti qui quindi questo campo è meglio riempirlo e quindi ci buttiamo subito quicksilver e quicksilver è la carta che gioca sempre per prima ce l'abbiamo sempre nella prima mano a bisogna dire fine turno perché se no questo non fa niente adesso il brutto del mio mazzo è che adesso io solo carte potenti non le posso giocare ancora le posso giocare solo dal quinto round in poi quindi speriamo di pescare una carta un po un po di basso livello allora le carte posizionate qui hanno più uno di forza questo non è male vedete adesso io non posso giocare niente perché ho carte di livello 3 6 5 6 quindi devo fare fine turno e dare il turno all'avversario questa è una brutta cosa domino cosa fa o domino no domino allora si è aperto il terzo campo vedete adesso ce ne ho due che ne posso giocare allora qui dice quando giochi una carta qui il campo si riempie con delle sue copie buono mister fantastic invece dice effetto continuo e campi adiacenti hanno forza più due quindi mister fantastic è sempre meglio usarlo centralmente perché così facendo se lo usi centralmente lui da più due di forza tutte e due laterali se invece lo usi adesso a sinistra da più due di forza un campo solo o scarlet witch vedete mister fantastic ma più due di forza si di qui che di là e adesso si rimescola il mazzo bene adesso abbiamo blu marvel che non posso ancora usare ma abbiamo lei qui cos'è durante il terzo turno mescola tua mano nel mazzo e pesca altre tre carte ok le carte posizionate qui hanno più uno di forza quindi qua ci va messa qui ci va messo qualcosa di più forte e io metto lei qua peccato perché l'avrei voluto usarla quasi in fondo a morso non so cosa fa a buono si cambia in iron man ai 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 questa è una brutta mano è elettra è avendomi spaccato tutto e questa mi sa che la perdiamo ragazzi lui ha snappato io ho c'è ancora un turno quindi blu marvel vediamo cos'è che faceva più uno a tutte le carte in tuo possesso in questa in questo campo e lei fa più due di forza per ogni altra carta che possiede in questo campo peccato la metto qua però è sciupata mi sa è lui mette gamora lì e penso di aver perso adesso ovviamente dovrei andare avanti su un campo ma non riesco a una roccia ma dato la roccia non serve a niente vedete è inutile quindi come posso vincere questa partita con una mano sola non posso perché dovrei mettere se metto questo qua le altre abilità effetto continuo attivo in questo campo me lo fa per 4 però andrei pari a lui proviamo ma ho perso questa è persa ragazzi questa è persa abbiamo trovato è riuscito a mettere tutte le carte io no questa è persa ragazzi vediamo se lui moltiplicandosi per 7 fa qualcosa di cattivo agli altri no andiamo anche noi a 28 quindi è persa bisogna vincere due campi su tre ragazzi noi ne abbiamo vinto uno solo peccato 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 ero riuscito ad arrivare a 30 ero riuscito ad arrivare a 30 con mister fantastic quindi non era male ottengo le ricompense che no le perdo le ricompense avanti facciamoci un'altra partita però perché anche ci sono anche le ricompense giornaliere vedete quindi tanto vale farne un'altra subito peccato perché ve l'ho detto le ho vinte praticamente tutte ho perso solo questo perché ovviamente quando registra come come su clash royale no ovviamente allora è il brutto del mio mazzo che è troppo pesante ci sono troppe carte da 6 in questa partita ci sono 7 turni ecco dov'è che si poteva giocare udino bene no udino apocalisse apocalisse adesso si poteva giocare bene perché se te lo butti giù al sesto turno poi lo riprendi ti da più 8 e 8 ce l'ha già 16 mi pare se non ricordo male fine del turno questa è così il limbo da solo due punti in più mister fantastic mi raccomando ecco che mi è arrivato adesso lui è saltato il turno mister fantastic è meglio giocarlo sempre centralmente qua è più 3 di forza la car allora più 3 di forza la carta o le carte più forti posizionati in questo campo bene quindi qua ci va messo hook e mister fantastic metto subito snooker qua no sugar sugar come si legge questo non lo so anche se non ho letto l'abilità prima dovevo leggerla lizard mi manca cosa dice l'abilità di sugar niente ti faccio saltare in aria so spacca solo e lizard cosa fa allora meno 3 di forza se l'avversario possiede 4 carte in questo campo quindi bisognerebbe mettere quattro carte noi qua giù tanto mettiamo mister fantastic qua che ci dà più due di qua e di là vedete e porta a 7 e 2 lui mette colosso a colosso è cattivo e anche iron fist è molto cattivo allora lei invece più due altre 3 carte alleate quindi potrei metterla in fondo qua non so se prende anche mister fantastic proviamo fine del turno importante vincere due turni su tre quindi quando io metterò Hulk in mezzo lì ah ok eh quella è stata una bella mossa ok ma ha preso anche mister fantastic e questo non è male blu marvel e gamora blu marvel più uno di forza tutte le carte in tuo possesso e quindi sì mettiamo blu marvel lo metto qua che mi dà più due quindi pareggia lizard e mi porta su mister fantastic e tutte le altre quindi il primo campo penso di che lo vinciamo tranquillamente snappiamo che si può che snappare e raddoppiamo la puntata ah ok mister fantastic beh questa è stravinta allora quando giochi una carta qui il campo si riempie con delle sue copie ah è cambiato è cambiato ecco perché infatti vedete la lizard ha perso 3 punti adesso c'è ancora due turni quindi io potrei mettere iron man da una parte gamora cos'è che fa più 5 se il tuo avversario ha giocato una carta in questo campo quindi non sappiamo lui dove giocherà il campo il prossimo io metto iron man qua e poi ci metto anche Hulk spaccali penso di aver vinto tranquillamente questa mano qua sì per forza non un povere non ci possono essere carte potenti che mi distrugge tutto lui si dovrebbe ben ritirare oddio attenzione e a questo punto io metto Hulk spacca in mezzo lì o se no questo cosa fa per ogni altra carta che possiede in questo campo ma non mi interessa raddoppia le altre abilità effetto continuo attive in questo campo oddio io vorrei provare lui vorrei provare lui qua ma questa è stravinta dai ragazzi vediamo quale si raddoppia l'effetto continuo di qua e 104 fatto non penso che non Angela cosa fa e niente ho stravinto questa gara l'ho stravinta è cambiato l'ultimo campo non me ne era accorto comunque ragazzi questo è il gioco adesso io ottengo le ricompense che sono 4 cubi perché li ho raddoppiati possiamo possiamo infrangere la cornice di questa la infrangiamo subito infatti lui esce la grafica del gioco è bellissima avrei preferito che anziché giocare così con le carte delle animazioni tipo Clash Royale tu giochi la carta parte l'omino parte Iron Man parte Hulk sarebbe stato più carino magari lo miglioreranno più avanti 5 potenziamenti Krog potenziatori Krog ma non so neanche se ce l'ho Krog se vi devo dire la verità perché ah poi vedete qua ci sono tutte le cose che si possono ritirare delle missioni giornaliere ci sono anche queste missioni qua in alto vinci tutti i tre campi l'ho fatta e poi c'è questa che dice gioca delle carte del corso 6 7 volte l'ho fatto e si prendono i punti e si va avanti ah il livello forse è questo qua il 12 perché l'84 mi sembra troppo ah c'è anche qualcosa del passo stagionale da prendere si 100 crediti gratis li prendiamo è ancora un po' tutto da studiare c'è anche qualcosa da collezione ah Krog eccolo qua l'avevo trovato allora lo potenziamo 5 potenziamenti Krog i potenziamenti servono solo come grafica vi ho detto non è che aumentano la forza della carta comunque ragazzi questo è il gioco io salgo qui a 85 ma non so fin dove arriverà questo è il gioco secondo me è molto carino spero che lo migliorino col tempo ora è nuovo quindi piano piano secondo me lo miglioreranno io ragazzi per questo video vi saluto è tutto vi raccomando lasciate like anche al video precedente che ho visto due like sono i miei praticamente andatevi a iscrivervi al canale di Lady Bea noi ci vediamo in un prossimo video o in una prossima live che non so se farò stasera o domani sera con Lady Bea ciao Zecchini alla prossima